NUVO GIORNO Nuovo giorno, buongiorno a tutti in questo lunedì 17 novembre Buongiorno a chi sta in ospedale, si sono accorti che la sua vista è peggiorata ma non è che prima ci vedesse proprio bene Buongiorno a quelli che decapitano la gente perché non la pensano allo stesso modo ma in realtà è il loro salvavita che gli si è incerpato Buongiorno a chi è malato ma tranquillo non sono contagioso, è solo che mi piace il tuo amico Nuovo giorno a tutti